E' vero quello che dicono? Che fra sette giorni il mondo finirà. La gente mostra ormai segni di pazia. Siamo tutti evidentemente scossi da questa situazione incredibile a cui stiamo andando incontro. Non riesco ad attraversare il cancello. Questa è l'ultima volta che ho a che fare con degli straccioni come puoi. Lasci perdere quella donna, Giulio. Sei la prima persona con la quale mi fermo a parlare. Prepariamoci dunque a passare insieme queste ultime ore che ci restano da vivere.